Il Politecnico di Torino, in collaborazione con il Comune e le CSI Piemonte, ha presentato il nuovo box self-service in grado di mettere in rete le procedure e i servizi di government della città e un nuovo protocollo che permetterà di estendere il servizio a tutti i terminali dell'Ateneo. L'iniziativa è stata resa possibile da un accordo siglato fra l'assessore ai sistemi informativi Stefano Gallo e il vice-rettore Marco Gilli. L'attivazione del box, dedicato ai 30.000 studenti del Politecnico, che vi potranno accedere tramite la smart card consegnata al momento dell'immatricolazione, semplificherà i rapporti con la burocrazia sostituendo gli attuali sportelli comunali. La pubblica amministrazione sarà quindi al servizio di studenti e dipendenti del Politecnico. Ma noi abbiamo cercato di recepire le direttive fondamentali e innovative del codice di amministrazione digitale che vogliono che tutta la pubblica amministrazione sia rinnovata e sia basata su un principio che è quello in cui l'utente non va più verso la pubblica amministrazione, bensì è la pubblica amministrazione che si pone al servizio dell'utente. Tramite il box self-service sarà possibile accedere a servizi online come la stampa di certificati anagrafici e di Stato civile, il pagamento di multe e tributi automobilistici, inoltrare reclami, denunce e pagare ticket sanitari. Questa è una delle cose che noi stiamo dando come Comune come possibilità di fare a tutte le aziende pubblico-private interessate a farlo e pensiamo che sia un buon modo per facilitare e diffondere l'utilizzo dei servizi di government su cui la città di Torino con l'approvazione del piano di government voluto dal sindaco Piero Fassino e approvato poi in giunta dal sessorato che dirigo, a questo punto vogliamo che sia uno dei mattoni fondamentali per i servizi dei prossimi anni. Il Politecnico si pone così come capofila in un progetto che dovrebbe coinvolgere tutti gli altri atenei piemontesi.